Oggi è un momento molto importante per noi perché prende corpo un lavoro cominciato con la città metropolitana di Torino e la regione Piemonte che ragiona sulle possibilità formative e sui potenziali di formazione per i territori. Quindi è un lavoro di collaborazione molto stretta fra queste istituzioni che è testimoniato dalla partecipazione che c'è stata e dai temi sollevati. Quindi davvero è stata una giornata molto interessante che si appresta a continuare e ci auguriamo che finisca con molti spunti da riportare ai tavoli di lavoro.